Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao a tutti, mi chiamo Damiano, sono un ragazzo iscritto alla Facoltà Magistrale di Fisica all'Insubria di Como. Per quanto concerne la mia esperienza personale, ritengo che la Facoltà di Fisica all'Insubria sia un ottimo percorso formativo, capace di costruire solide vasi di conoscenza generale e in grado di fornire in modo esaustivo i requisiti fondamentali per il futuro nel mondo del lavoro. Ho scelto di proseguire qui poiché questa università garantisce numerosi aspetti positivi, che ho avuto modo di apprezzare durante il corso della terrenale. Ad esempio la disponibilità e la flessibilità dei docenti, la collaborazione con i compagni e il livello di approfondimento con il quale sono trattati i vari corsi. Con la perseveranza e la buona volontà si ottiene tutto. Spero che la mia testimonianza giovi alla vostra scelta. In bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo a tutti. Giù che la facoltà bisogna trovarci la ing tem stiguata. Quindi il fatto ciò che pot湧se la piu Kenia e la piu Nu. Ecco carica!